Vivi Centro Network Nella mattinata di oggi, domenica 31 luglio 2016, nel porto di Palermo è approdata la nave Dattilo CP940 della Guardia Costiera. A bordo, 655 migranti soccorsi nelle acque del Mediterraneo nella giornata del 29 luglio, ad accoglierli i medici dell'ASP di Palermo ed i volontari della Croce Rossa. Vivi Centro Network Centro Network Centro Network